Sono Fabio Vettor della ditta in fronte a SRL di Breda di Piave, siamo produttori di serramenti in legno, legno alluminio e alluminio e facciamo che l'installazione consegni installazioni in cantiere. La nostra azienda prevalentemente ci occupa di serramenti per privati e diciamo che siamo su una fascia medio alta per quanto riguarda la qualità. All'interno dell'azienda utilizzavamo altri mezzi fino ad oggi, però molto più onerosi e con dispendio di tempo. Abbiamo pensato a questa macchina perché vogliamo trovare una macchina che ci dia una certa affidabilità per quanto riguarda la sicurezza, innanzitutto per gli operatori, e velocizzare i tempi di esecuzione. Con questo prodotto ci troviamo a lavorare con un operatore da solo, senza bisogno di 3-4 persone magari per lo stesso intervento, e totalmente in sicurezza. Prima di questa macchina utilizzavamo altri mezzi che però creavano delle lungaggini e dovevano essere gestiti da più operatori. Invece qui possiamo lavorare l'operatore da solo e in massima sicurezza e quella è la cosa più importante per noi. I punti di forza, innanzitutto, la velocità di esecuzione, quindi la possibilità di prendere in questo caso vetrate anche di notevoli dimensioni, da un carrello o da una cavalletta da vetri, posizionarle in banchi di lavoro e poterle gestire anche nella rotazione, in modo tale da poter effettuare le varie lavorazioni che comportano certe vetrate. Inoltre, con questo prodotto, riusciamo anche in cantiere ad eseguire installazioni di vetrate nella massima facilità e sempre rispettando le norme di sicurezza. Inoltre, questa macchina è molto contenuta, quindi anche lo spostamento all'interno dell'azienda, piuttosto che nel cantiere, è facilitata da queste dimensioni molto distante.